buon pomeriggio a tutti benvenuti allo scarabocchi festival oggi parliamo di una nuova coscienza ecologica io sono giorgio latiano vi parlo da modena e qui con me c'è federica gasbarro che ci parla da grazie grazie giorgio vi parlo da roma e sono contentissima che oggi siamo qui a discutere appunto di coscienza ecologica di cambiamento climatico di quello che di fatto è un po il nostro futuro e sono contenta appunto di avere persone che ci seguono interessate mi piace questa parola futuro spesso parliamo di cambiamento climatico sembra che ci concentriamo solo sui problemi in realtà le situazioni esistono e si possono già mettere in atto per creare davvero un futuro migliore e soprattutto possiamo ancora sceglierlo ma vedremo tra poco esattamente perché abbiamo ancora per fortuna questa possibilità magari possiamo incominciare da presentarci vuoi raccontarci qualcosa di te federica certo volentieri io ho 26 anni e mi occupo di cambiamento climatico in realtà solamente da tre anni quindi non sono uno scienziato un ricercatore anzi mi sto per laureare insomma da qui a qualche mese sarò una biologa però diciamo che il tema dell'ambiente dei cambiamenti climatici mi ha sempre in qualche è stata un po una costante ecco nella mia vita da da piccolina ho origini abruzzesi pur essendo vissuta da sempre a roma e e tornare comunque periodicamente sempre sempre in quei posti a passeggiare per i sentieri di montagna piuttosto che magari con i miei nonni quando andavamo a vedere i terreni dove venivano coltivate coltivate le cose mi ha un po avvicinata e mi ha fatto conoscere da un lato la bellezza alla quale non volevo rinunciare per nessun motivo al mondo e dall'altra anche un po l'inciviltà se vogliamo utilizzare questo termine che può essere un po forte ma secondo me rende abbastanza l'idea di alcune persone che non curanti del nostro futuro probabilmente neanche consapevoli pienamente consapevoli altrimenti mi risulta davvero difficile pensare che qualcuno potesse davvero avere un cuore così forte così nero da volerlo devastare quindi ecco da lì è nata un po la mia sensibilità da semplicemente appunto non so con i miei genitori andavo a fare queste passeggiote per i sentieri di montagna e magari la mamma mi diceva federica raccogli quella bottiglia di plastica che era a terra e ovviamente non l'avevo congettata io a terra e così via insomma piuttosto che non so a volte la nonna mi spiegava dei pesticidi che loro diciamo in dialetto la chiamavano la medicina delle piante no quindi questa cosa mi ha sempre atturato ecco mi dedico un po alla ho scritto un paio di libri scendo nelle piazze e sono sui social quindi niente mi sentite non vorrei avere qualche problema di connessione ti sentiamo penso che io ho avuto qualche problema di connessione spero che chi ci ascolta ti abbia ti abbia potuto sentire cerchiamo di fare il collegamento come ultimamente tocca fare ma ringraziamo anche questa possibilità che ci permette di unire punti distanti e di trovarci qui oggi anche con tutti voi allora mi presento anch'io io sono giorgio macchiano ho 41 anni sono un ricercatore in scienze forestali lavoro all'università di milano quindi faccio ricerca scientifica sono uno scienziato si potrebbe dire da da qualche anno a questa parte e anche per me la la passione per le foreste nel mio caso che il mio campo di ricerca è nata facendo le passeggiate in montagna io sono di torino quindi la mia area era più le alpi la val d'aosta il piemonte ma gli scenari sono simili a quelli che hai descritto tu federica passeggiate con i genitori contemplare ammirare la bellezza di quello che mi circondava e a volte invece le occasioni in cui questa bellezza veniva rovinata compromessa che ora non riuscivo bene a capire ma veramente suonavano un campanello d'allarme e mi incoraggiavano a prendermi cura avere a cuore quello che vedevo questo luogo in cui dopo un po finivo per sentirmi a casa luogo in cui i pensieri si calmano si rilassano non so se a voi è mai capitato di passeggiare in montagna in un bosco anche vicino alla vostra città magari dentro alla vostra città e di percepire questa sensazione di tranquillità di calma di preoccupazioni che se ne vanno ecco questo secondo me è un tesoro molto prezioso che dobbiamo assolutamente conservare allora io vorrei chiederti visto che oggi la chiacchierata funziona così a domande botte risposta tra di noi c'è già che qual è stata la tua scintilla che ti ha portato anche a manifestare in piazza ma perché oggi secondo te bisogna manifestare in piazza se dovessi raccontarlo a chi ci ascolta beh perché ahimè ci troviamo in una gravissima crisi esistenziale sembra un termine così grande così quasi difficile da metabolizzare ma diciamo che per dirla in maniera semplice il coronavirus ci ha dimostrato quanto deboli siamo nei confronti di un organismo talmente piccolo da essere invisibile e quanto enermi spesso se lo ricorda siamo di fronte a magari eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico quindi ahimè versiamo in una situazione davvero di emergenza e come in tutte le emergenze bisogna fare il possibile partire dal punto in cui si è non possiamo pensare di diventare scienziati un domani di aspettare che tutti i governi si mettano d'accordo no assolutamente no dobbiamo partire da oggi dal nostro piccolo e chiedere a gran voce che le cose cambino ad un livello superiore ad un livello nazionale internazionale chiaramente con coerenza perché non si può pensare di scioperare o chiedere al proprio stato al proprio governo dei cambiamenti radicali e poi non si è disposti a fare nulla nel proprio piccolo e in realtà manifestare è diciamo un gran mezzo di fatto ha portato noi giovani alle Nazioni Unite di fatto in qualche modo magari non volendo perché non credo che all'inizio diciamo l'obiettivo fosse dar voce a voi scienziati quanto più al problema che voi o meglio non era avere l'arroganza di dar voce a voi scienziati perché voi la vostra voce ce l'avete e la fate sentire forte sin dall'inizio probabilmente l'obiettivo dei ragazzi è sempre stato quello di fare squadra cioè vedere lo scienziato come l'unica persona che effettivamente poteva aiutarci un po come il medico no quando quando si ha la febbre facciamo finta il nostro pianeta ha la febbre da chi vai dal medico e il medico del pianeta e lo scienziato quindi poi ovviamente siamo stati fortunati che a livello mediatico c'è stata una grande risonanza e quindi il problema ha avuto finalmente il la luce che meritava ecco i riflettori puntati contro e a questo punto però mi viene da da chiedere a te che appunto sei sei un uomo di scienza un ricercatore come vedi dalla tua prospettiva cioè questa era stata la mia prospettiva quindi dalla parte di qua da ragazza come ho percepito voi e cosa in qualche modo mi ha spinto e qual è l'importanza del manifestare dall'altra però mi chiedo voi che effettivamente da anni e anni lottate studiate passate tutte le vostre giornate appunto chini a cercare una soluzione o a sottolineare l'imminenza di di una situazione catastrofica come avete percepito questo insorgere da parte dei ragazzi per noi è stata una boccazza d'ossigeno non solo per noi ma soprattutto per la soluzione del problema che ci sta a cuore non solamente come scienziati ma come cittadini come come te come come tutti voi la soluzione al problema della crisi climatica che sta diventando sempre più grave è vero la scienza già da moltissimi anni avverte dei pericoli che si nascondono nel riversare costantemente in atmosfera tonnellate 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 di gas clima alteranti come li chiamiamo cioè gas effetto serra pensate che addirittura da 1850 le primissime scoperte le primissime ipotesi quindi se fate i conti sono oltre 160 anni che con raffinamenti successivi ma negli ultimi decenni in modo molto coerente nel tempo la ricerca ci avverte di quello di quello che verrà noi però come scienziati penso abbiamo due problemi molto grossi il primo è un problema a raccontare a comunicare queste cose ci sono la comunicazione la scienza è un campo affascinantissimo io mi ci butto perché mi piace ma anche molto difficile meriterebbe un incontro se magari poi l'anno prossimo lo proponiamo ma per esempio qualcosa qui come scienziati non siamo non veniamo formati non veniamo allenati e quindi racconta una volta che abbiamo fatto le nostre scoperte con i metodi ci sembrano robusti le abbiamo verificate tra di noi perché questa è una garanzia fondamentale della scienza no quello che altri colleghi verifichino controllino facciano le pulci al tuo lavoro finché non appare completamente robusto e accurato però a quel punto devi raccontarlo a qualcuno ai giornalisti ai ai decisori politici a chi deve prendere decisioni ai cittadini di tutti i giorni e lì un po' casca l'asino perché ognuno fa un po diciamo la situazione un po migliorata ma 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 ognuno fa un po come riesce appunto senza una formazione specifica fino adesso almeno in italia sulla comunicazione scientifica e quindi la parte del racconto della comunicazione spesso ottiene uno sgonfiarsi dell'urgenza del problema e dell'importanza delle soluzioni magari rischiamo di passare per allarmisti quelli che non fanno altro che sollevare problemi e gridare lupo a lupo ogni due secondi no quindi diventare anche poco credibili pure non sappiamo sottolineare bene le emozioni positive sembriamo solo così spaventare o preoccupare addirittura puntare il dito è colpa tua no è colpa tua è colpa della cina è colpa degli stati uniti ma questo risolve poco alla fine e quindi l'arrivo di ragazzi ragazze che sono scese in piazza certo come dici tu hanno ci hanno dato voce nel senso che hanno letto i report scientifici le informazioni che noi mettiamo a disposizione della comunità però hanno avete provato già raccontarli in un altro modo a calarli nel concreto a far capire perché è importante ma la vostra stessa presenza di persone per definizione orientate anche al futuro sul presente ma anche al futuro perché la gran parte della vostra vita è ancora davanti a voi è un segnale è un segnale per tutti che c'è qualcuno che davvero preoccupato e che non è solo il solito scienziato chino come dici tu 24 ore sul computer magari col camice bianco gli occhiali spessi così è una persona comune come noi preoccupata per la propria vita perché vuole fare una vita felice questo è quello che fa la differenza è vero e quindi ascoltando di mi assorta questa questa curiosità quindi pensi che i governi finora non vi abbiano ascoltato perché di fatto non non hanno compreso il vostro messaggio oppure per qualche altro motivo gli scienziati non sono un grande bacino elettorale nel mondo quindi non credo che i governi prendano delle decisioni solo perché gli scienziati dicono qualcosa nei governi ci piaccia o no prendono delle decisioni per far piacere a chi li elegge a volte questa è una strada corretta perché se chi li elegge a cuore il bene comune quindi vuol dire che anche il governo cuore il bene comune benissimo altre volte invece possono prevalere altri interessi dipende dai bacini elettorali da dall'opinione pubblica quindi l'azione del governo o dei governi è quasi sempre a posteriori cioè è difficile che un politico in questo momento storico almeno che la struttura politica prenda delle decisioni impopolari quando succede queste decisioni sono poco efficaci l'abbiamo visto in francia un paio di anni fa il governo macron ha deciso di aumentare il prezzo dei combustibili fossili per scoraggiarne l'uso e quindi per ridurre un po le nostre emissioni in atmosfera ma le persone soprattutto quelle più povere che hanno visto aumentare il prezzo della benzina per questo motivo anche in parte per altri sono scese in piazza molto arrabbiate hanno costretto il governo a eliminare togliere questa decisione che aveva preso a tornare sui suoi passi quindi prima di agire sui governi spesso diciamo è ma questo stato non fa abbastanza questa legge non è abbastanza ci vuole che la comunità noi la società sia chieda queste cose le voglia le voglia fare ne conosca l'importanza e ripeto ne capisca il significato per la felicità di tutti allora potremmo aspettarci che anche la politica chi prende le decisioni voglia accontentare questo desiderio ma è un desiderio che prima deve emergere se no non succede niente sono d'accordissimo pienamente al cento per cento è così e allora viene a a questo punto da chiederti che cos'è che chiedete in particolare in questo momento ci avviciniamo al prossimo incontro dei capi di stato e di governo sui cambiamenti climatici a glasgow tra poche settimane la cosiddetta cop 26 cosa chiedete in questo momento cosa chiederete la prossima volta che scenderete in piazza o negli scioperi per il clima che state realizzate certo ahimè il messaggio e la richiesta non è variata molto da tre anni a questa parte eh di fatto siamo partiti con basta parole vuote vogliamo azione azione concreta e per azione concreta eh si intendono una miriade di cose diciamo che ehm senza entrare troppo sul tecnico credo che oggettivamente ci siano alcune priorità che dovrebbero essere spinte a livello internazionale ehm prima tra tutte mi viene in mente eh l'aiuto da parte dei paesi sviluppati nei confronti di quelli meno sviluppati o che stanno attualmente crescendo eh per fare due cose la prima cercare di ehm adattarsi e e trovare diciamo vie di scampo in qualche modo a quelli che saranno gli effetti catastrofici dei cambiamenti climatici ai quali insomma abbiamo visto in quest'estate che siamo tutti soggetti e mh e soprattutto aiutarli nella transizione ecologica non è così semplice un paese che magari basa la sua economia sul fossile di punto in bianco dire basta adesso nessuno lavora più per noi cambiamo ehm diventiamo così sostenibili quindi cioè da un giorno all'altro eh verrebbero meno anche altri diritti eh che sono quelli strettamente legati alla persona quindi secondo me eh i paesi che sono nella posizione per poter aiutare dovrebbero aiutarli in questa transizione di modo che sia equa e giusta allo stesso tempo. Ecco ricordiamoci che quando parli di aiuto parliamo di soldi, di investimenti, di un trasferimento che deve avvenire e che a Parigi è stato quantificato qualche anno fa in cento miliardi di dollari all'anno, una cifra dalla quale siamo ancora molto molto lontani. Eh già, ahimessi. Poi di fatto trovare in qualche modo, anche qui cerco di semplificarlo il più possibile, un tempo comune diciamo così per poter partire tutti insieme verso il cambiamento perché se inizia prima magari l'Europa però poi la Cina dice no io inizio tra dieci anni e gli Stati Uniti dicono no io tra cinque allora a quel punto non siamo così forti contro i cambiamenti climatici. Dobbiamo essere compatti, dobbiamo lavorare come una vera squadra. Come abbiamo trattato la crisi emergenziale del coronavirus? Tutti insieme e quanto più possibile compatti, altrimenti qualcuno che resta indietro c'è sempre e poi magari tu sei uno scienziato lo saprai sicuramente meglio di me, quando si vanno a fare dei calcoli relativi alle emissioni, all'impatto dei cambiamenti climatici e quant'altro, essendo delle medie in qualche modo, o si parte tutti insieme e si fanno dei grandi passi avanti o altrimenti è un po' come dire il lockdown che ha giovato al clima. No, perché sono stati due o tre mesi di chiusura su una media di trent'anni e sono come un granello di sabbia, no? Quindi per questo. E poi il famoso argomento dell'articolo 6 degli Accordi di Parigi. Che cosa si tratta? Riassumicelo. Poi interessa anche a me in particolare sulle foreste. Si tratta dei decrediti di carbonio, del mercato del carbonio e anche qui cerco di a volte fare la sintesi e spiegarle in parole più semplici, poi perde quasi di significato, no? Come se cambiasse il concetto di base, però provo a fare un esempio. Se il paese A riesce ad essere particolarmente virtuoso e bravo, quindi è sostenibile, riesce a colpire tutti gli obiettivi che si era prefissato in termini di emissioni, di sostenibilità e quant'altro, può in qualche modo vendere dei crediti di carbonio ad un paese che è stato meno virtuoso, quindi meno bravo nel raggiungimento degli stessi obiettivi. E per quanto semplice e banale possa sembrare la situazione, in realtà a quanto pare è uno degli articoli più complessi, più dibattuti. Negli anni appunto è stato detto che non funzionavano, poi ci si è tornati sopra, insomma sta di fatto che a Coppa 25 di Madrid, dove io ero lì proprio per imparare, per cercare di capirci qualcosa anch'io perché è complessa la situazione, comunque non sono arrivati a trovare un vero e proprio accordo in generale, quindi piuttosto, ecco passami il termine, che è un accordicchio, hanno deciso di rimandare. Anche questo è un grandissimo tema, cioè dal momento in cui si prende una decisione che viene ratificata, che viene messa in pratica da tutti i governi del mondo, passano dei tempi tecnici, chiamiamoli così. Quindi se uno rimanda anche la decisione e poi c'è stata la pandemia, di cosa parliamo? Ricordiamo che da una parte si sta parlando di un processo storico, che penso noi, voi che ci state ascoltando, chiunque sia vivo in questo momento sul pianeta Terra, ha un grande privilegio, perché non era mai accaduto nella storia dell'umanità che tutte le nazioni, tutti gli stati del mondo si mettessero d'accordo su qualcosa di misurabile, con un obiettivo molto preciso, come è stato l'accordo di Parigi, contenere riscaldamento entro i due gradi, possibilmente un grado e mezzo, rispetto all'epoca pre-industriale. Questo è stato una prima volta nella storia dell'umanità, della nostra specie, Homo sapiens. E chiaramente può non essere semplice dare seguito, cioè capire, ok, quello è l'obiettivo, ma nel concreto come ci arriviamo, come regoliamo i rapporti tra di noi, come puniamo chi non ce la fa o chi sceglie di rallentare il processo. Queste sono tutte le decisioni che stanno venendo prese dal 2015, quindi da sei anni a questa parte, e che a Madrid non sono ancora arrivate in fondo e speriamo arriveranno in fondo. E tra l'altro questo articolo 6, questo scambio o mercato dei crediti di carbonio, interessa particolarmente anche il settore di cui io mi occupo, le foreste. L'esempio che tu hai fatto è utilissimo. Se io sono un paese che fa crescere benissimo le sue foreste, quindi questi alberi con la fotosintesi riescono a succhiare carbonio e a contrastare quindi le emissioni che noi facciamo, posso addirittura superare la quota di, diciamo, buona volontà o di buon comportamento che mi spetterebbe. posso essere più bravo ancora di quello che mi spetterebbe. E in questo caso contatto il mio paese cugino dall'altra parte del fiume e gli dico, guarda, da me le foreste sono cresciute tantissimo, approfittane anche tu che magari non sei riuscito a ottenere i tuoi obiettivi e insieme, mettiamo insieme quello che abbiamo fatto e insieme abbiamo un vantaggio. Il meccanismo di per sé è virtuoso e il fatto che in questo momento manchi, perché non è ancora stato definito, quindi di fatto siamo siamo a zero, stiamo solo parlando per capire come fare, è un problema, è un problema che ci fa perdere delle opportunità, anche delle opportunità di trovare, di escogitare nuovi modi per assorbire questo carbonio. Cioè se qualcuno ti premia, se tu sei bravo e ti rivia il gas serra dall'atmosfera, allora tu ti sforzi, dice io voglio il premio, no? Inventi nuove tecnologie, oltre agli alberi che sono la tecnologia ovviamente più diffusa e più efficace che abbiamo, ma ce ne possono essere anche altre. Sti premi servono per far andare avanti la transizione, come dicevi tu prima, cioè bisogna che chi deve abbandonare la sua auto diesel, l'auto di vostro papà o di vostra mamma, per comprare un'auto elettrica, bisogna che ci abbia un guadagno, un vantaggio, che lo voglia fare, che sia bello farlo, che sia utile, che non costi troppo, se no non lo fa nessuno. E per i paesi è lo stesso. Quindi a Glasgow si parlerà in particolare di questi meccanismi, io spero di riuscire ad andare, forse sono riuscito a recuperare un passo come osservatore per la conferenza, quindi magari ci incontreremo là, vediamo, vediamo se si mettono d'accordo, soprattutto se riescono a evitare alcune trappole. Conteggiare quanto carbonio viene catturato da una foresta è un compito molto, molto difficile. Ci sono dei calcoli complessi che bisogna fare, non abbiamo tutti i dati, nonostante adesso con i satelliti che orbitano intorno alla Terra riusciamo a fare un buon monitoraggio e quindi a volte si può rischiare di contare sbagliato, o perché ci si sbaglia, oppure a volte perché qualcuno vuole tirare a fregare e cercare di dimostrare che fa molto quando invece non ha fatto niente. Quindi ci vuole, come dici tu, un accordo, non un accordicchio che lasci spazio a questi trucchetti, ma un accordo con dei paletti molto chiari e che non permetta di sgarrare in questo senso. Quindi questo è sicuramente una delle cose più importanti che saranno discusse a Glasgow. Spero che i telegiornali ne parleranno anche se sono convinto che la tua spiegazione di oggi è stata più chiara di quella che sentiremo in tv. Però ecco, cerchiamo, vi invito anzi a seguire. Ecco, ma forse posso chiederti ma com'è che possiamo seguire i lavori di questo importante incontro? Non credo che ci sarà una diretta su Rai 1, quindi... No, di certo no. Ma in realtà noi giovani, i due delegati italiani, hanno, o meglio, faccio un posto indietro, ogni delegato, ogni paese ha il proprio modo di comunicare, siamo stati lasciati piuttosto liberi sotto questo punto di vista. Quindi ovviamente essendo giovani e dialogando con i giovani, i social sono il canale più chiaro, diretto e senza filtri che c'è. Quindi sicuramente tramite Instagram o TikTok. Credo che però magari ecco lo strumento migliore siano le storie di Instagram, perché in diretta tu riesci in qualche modo a dire ragazzi siamo entrati, abbiamo creato questo documento, voi cosa ne pensate e cosa non ne pensate. E poi con l'altro delegato, Daniele Guadagnolo, abbiamo creato, ha creato in realtà lui, perché io sono poco tecnologica, un form, un questionario che ricalca in qualche modo i punti che prevedono l'agenda dei ragazzi, che prevede l'agenda dei ragazzi. E proprio in merito a quei punti tutti i giovani italiani sono invitati a esprimere una preferenza, sono domande chiuse, quindi non bisogna scrivere o ingegnarsi chissà cosa, però dare la propria opinione, di modo che poi noi prima dell'evento riusciremo a fare una sorta di sintesi, a capire qual è la necessità dei ragazzi, l'urgenza e a farci poi in qualche modo portavoci di queste istanze di fronte. Come si possono provare questi punti da commentare? Sul mio profilo Instagram, Federica trattino basso Gasbarro, oppure su quello del mio collega Daniele Guadagnolo, su Instagram credo si chiami Daniele trattino basso Guadagnolo. Anche perché se non sbaglio prima di andare a Glasgow ci sarà proprio un evento dei giovani preparatorio di questi incontri sul clima a Milano, vero? Esatto, sarà a Milano a fine settembre e in quei tre giorni ogni delegato porterà le istanze che ha raccolto nel proprio paese, se ne parlerà, si cercherà di fare un'ulteriore sintesi, se noi la facciamo a livello nazionale, poi in quei tre giorni dobbiamo farla a livello internazionale, creare un unico documento che poi il 30 di settembre verrà presentato ai ministri che sono lì pronti per i lavori di Precop e ci auguriamo, anzi per meglio dire da striker, direi che vogliamo che venga preso sul serio, quanto più possibile. E invece adesso ti chiedo io qualcosa. Abbiamo detto che le foreste possono aiutarci molto, grazie principalmente alla fotosintesi. Quindi con la fotosintesi assorbono la CO2 e in qualche modo, correggimi se sbaglio, creano il loro stesso nutrimento, quindi zucchero, e rilasciano l'ossigeno in atmosfera, quindi di fatto noi respiriamo grazie a loro. Però purtroppo ultimamente abbiamo visto che in Italia, ma in generale in tutto il mondo, sono un po' colpite, devastate da questi violenti incendi che di fatto stiamo segando come al solito il ramo sul quale siamo seduti. Quindi la mia domanda è, questi incendi, come vedi tu appunto l'incendio? Come lo spiegheresti in qualche modo ad un ragazzo? Perché è così grave una foresta rasa al suolo? E soprattutto come invece le foreste rispondono ai cambiamenti climatici, perché sappiamo che se aumenta la temperatura terrestre, anche le foreste hanno delle ripercussioni. Quindi come possiamo aiutarle in qualche modo? Allora, gli alberi e le foreste sono un po' straordinari davvero. In questo momento abbiamo moltissimo bisogno di loro, proprio perché uno dei loro comportamenti fondamentali, come spiegavi tu, è proprio quello di assorbire CO2. Prendete un pezzo di legno, qualsiasi oggetto che avete intorno a voi in questo momento, io ho questo armadio alle mie spalle, metà del suo peso è fatto da qualcosa che era gas, che era CO2 una volta e che non è più nell'atmosfera, quindi non fa più effetto serra e non peggiora più i cambiamenti climatici. Sono i grandi aspirapolveri di questo gas. Però è anche vero il contrario, che sono tra le prime vittime del cambiamento climatico, perché sappiamo che non è che si sta solo riscaldando la temperatura, molte cose nuove stanno avvenendo. Tempeste più forti, siccità più prolungate, alluvioni, grandi incendi come abbiamo visto in Italia e non solo, in Siberia, in California, in Australia, solo l'anno scorso, se vi ricordate le notizie. E tutti questi disturbi, così proprio si chiamano nel nostro gergo scientifico, interrompono, interferiscono con un albero, sia perché lo uccidono e quindi chiaramente non può più fare questa funzione di aspirapolvere, ma anche se rimane vivo, viene stressato, un po' come noi, gli alberi si stressano e quando si stressano vivono, vivacchiano, non vivono proprio bene, quindi anche la loro fotosintesi rallenta, addirittura può spegnersi per alcuni periodi. E questo è proprio quello che come scienziati temiamo molto, abbiamo molta paura in questo momento di come andrà la fotosintesi nel futuro. Man mano che il calore aumenterà, le siccità aumenteranno, gli incendi sicuramente aumenteranno almeno per un certo periodo, alcune foreste nel mondo potrebbero spegnere temporaneamente la loro funzione di aspirapolvere di gas, serra, di CO2 e questo non possiamo assolutamente permettercelo, perché gli alberi sono l'unica cosa in questo momento che assorbe gas. L'unico altro rimedio è non emetterlo, quindi non usare combustibili fossili, ma una volta che li abbiamo usati e che la CO2 sia andata in atmosfera, dobbiamo riprendercelo in qualche modo e gli alberi sono l'unico modo in questo momento. Quindi in Italia quest'estate il problema degli incendi è stato grave per questo motivo, non tanto perché non ci sarà mai più un bosco. Il bosco ritornerà, ritorna quasi sempre. Le foreste esistono da un periodo cento volte più lungo rispetto alla nostra specie, quindi in questi milioni di anni si sono abituati a vederne di cotte di crude, resistono a impatti di meteoriti, eruzioni vulcaniche, non parliamo degli incendi o dei colpi di vento. Il problema è che ci mettono un certo tempo a ritornare, a riprendersi diciamo dopo queste botte, e più la botta è seria e più questo tempo è lungo. Siamo noi quindi che non possiamo permetterci di perdere la foresta anche solo per un certo periodo. Poi magari dopo 50 anni le ritorna, 30 anni, a seconda del suolo, del clima, dei processi ecologici di quel luogo specifico. Però ecco, sarebbe meglio evitare di fare, sarebbe meglio conservare quelli che chiamiamo questi pozzi di carbone, quelli che prima ho chiamato gli aspirapolveri invece di carbone. Anche perché se per esempio dovessimo piantare un albero bambino, ecco, sarebbe efficace la sua fotosintesi, quindi la funzione da aspirapolvere sarebbe come quella della pianta della mamma o del papà, che sono piante grandi oppure è inferiore la sua regista al suo lavoro? No, il bambino ci mette un po' a crescere, questo vale anche per gli alberi. Un albero piccolo così, ha poche foglioline e quindi può fare poca fotosintesi. Dobbiamo avere pazienza, aspettare molto tempo, 10, 20, 30 anni, quando anche noi saremo grandi, anche quell'albero farà, svolgerà in pieno il suo compito, il suo beneficio per noi. La fregatura, se vuoi, è che gli alberi, quando parliamo di piantare alberi, no? Avrete sentito voi, non so, la vostra regione magari, o la mamma e papà, andiamo a piantare un albero. Gli alberi quasi sempre si devono piantare piccoli, si devono piantare bambini. Non funziona bene piantare un albero grande perché soffre troppo, è già molto sviluppato e se lo togli dal terreno e lo metti da un'altra parte, si è visto che non funziona, rischia di morire. Quindi per forza bisogna metterli piccoli, piccoli e aspettare che crescano. Quindi ci vuole molto tempo per costruire una foresta. Sarebbe meglio non distruggerla, non eliminarla. E come facciamo noi a tutelarla, non distruggerla? Cosa possiamo fare? Del resto siamo giovani, siamo tanti, sono ancora bambini, quindi nel nostro piccolo, ecco, se vogliamo salvarle, cosa possiamo fare? Ci sono dei posti nel mondo dove il problema è più grave. Sembrano lontanissimi da noi e invece hanno molto a che fare e possiamo fare molto. E parlo in particolare dei tropici, delle zone tropicali. L'Amazzonia, ne avrete sentito nominare, ma anche le foreste africane, quelle dell'Indonesia, luoghi lontani, dove però ci sono le foreste più maessose della terra, quelle che contengono più alberi, più foglie, più radici di tutte, quindi sono importantissime, anche più animali, tantissime specie di animali che addirittura dobbiamo ancora scoprire, dobbiamo ancora conoscere, abitano in quei luoghi lì che vi auguro di visitare almeno una volta nella vita se farete un viaggio. E purtroppo queste sono proprio le foreste che stanno, che stiamo distruggendo più velocemente di tutte. La deforestazione è proprio questo, eliminare una foresta e mettere al posto qualcos'altro, un campo coltivato, un pascolo per le mucche, una città, una miniera ad oro o di rame, come spesso capita. Questo è un problema grave, va fermato, ma noi possiamo fare molto per fermarlo, perché quelle mucche, quella soia magari che viene coltivata lì, quel rame, quell'oro, vengono venduti, vanno da qualche parte. Spesso arrivano anche nel nostro paese, dove invece queste foreste non ci sono e per fortuna anche di deforestazione ce n'è poca. Quindi senza saperlo, molto spesso noi compriamo o consumiamo degli oggetti, dei beni che contengono dentro di sé un'impronta nascosta di deforestazione, di distruzione delle foreste. Che cosa possiamo fare quindi? Cominciamo a chiederci qual è la storia delle cose che compriamo. Oggi spesso le cose che compriamo arrivano da molto lontano, no? Si dice che il mondo è globalizzato, cioè le merci, le persone viaggiano da un punto all'altro, coronavirus permettendo. E secondo me è una cosa molto curiosa, molto bella questa qua. Quando compriamo un oggetto, c'è tutta una storia dietro un oggetto. Ha viaggiato magari attraverso oceani, oppure per via aerea per ore e ore, o ad orso di mulo, oppure ci sono stati contadini argentini che lo hanno coltivato, e poi o raccoglitori filippini, o commercianti pakistani, tantissime persone diverse da tanti posti del mondo che parlano moltissime lingue, hanno messo la loro storia, il loro lavoro dentro un oggetto. E ricostruire la storia deve essere un viaggio affascinante, come viaggiare dall'interno della nostra camera, della nostra cameretta, con un semplice oggetto in mano, io potrei potenzialmente andare in tutto il mondo. Chi avrà fatto la plastica che c'è in questa penna? Da dove arriverà l'inchiostro? Magari da una pianta, da un animale? Chissà. E ricostruendo questa storia possiamo cominciare a stare più attenti, e a scegliere, e a decidere che cosa vogliamo comprare, quali oggetti vogliamo nella nostra camera, nella nostra vita, quali invece è meglio lasciar stare, perché si rendono complici di un problema, di un problema che non ricade solo sul Brasile, su terre lontane, ma su tutti noi. Certo. Anche perché magari proprio indagando sulla storia segreta dietro i nostri oggetti o quelli che vorremmo comprare, magari scopriamo non solo cose belle favole. Ecco, a volte ci sono bambini di otto, nove anni, che sono costretti a lavorare duramente, che non vengono pagati o vengono maltrattati, o mamme che non vengono pagate a sufficienza per poter sostenere lo studio dei loro piccoli e dargli un futuro diverso. O ancora, c'è qualcosa che va ben oltre la dignità della persona e arriva addirittura a toccare il valore più grande che abbiamo, che è quello della vita. Ricordiamo magari il disastro del Rana Plaza. Per chi non lo conoscesse, in realtà questo grande palazzo nel quale lavoravano tanti bambini, tante donne, è crollato sotto il peso di questi macchinari, il peso e le vibrazioni di questi macchinari che venivano utilizzati per cucire magliette, ma non magliette a caso o abiti a caso, abiti della fast fashion, quindi della moda veloce. La moda che a volte costa davvero poco, è molto bella da manifestare, ma allo stesso tempo nasconde un prezzo che noi non stiamo pagando in quel momento. Quindi se il reale prezzo di una maglietta è 30 euro e io lo pago 5, vuol dire che la restante parte dei soldi che pagherà la mia mamma o io, probabilmente quel prezzo lo sta pagando qualcun altro con la sua vita. Quindi ecco lì che il concetto poi di sostenibilità prende anche un'accezione molto più ampia, quindi non solo legata alle emissioni di CO2 che ci sono volute per arrivare dal Bangladesh in Italia, non solo gli ettari di terreno che sono stati sterminati magari per coltivare non so, un filato particolare, qualcosa che poi permettesse a quella maglietta di esistere. Io ovviamente non sono nell'ambito della moda, quindi non ho la più pallida idea, però immagino che ci siano vari step. Quindi chiedersi sempre cosa c'è dietro e conoscere ci rende più liberi, più consapevoli e proprio dalla conoscenza che saremmo tutti in grado di cambiare il proprio stile di vita, che non significa rinunciare alla propria cultura, alle proprie abitudini, quindi significa al contrario trovare delle alternative, cioè semplicemente io voglio una maglietta nuova, allora la scelta più sostenibile già ce l'ho probabilmente, sta nell'armadio. Posso magari, non so, vedere se la mamma da giovane ne aveva una simile, altrettanto bella o più bella, oppure magari ecco tante alternative sono scambiarsi gli abiti con i propri amici, non so, la mia amica non mette più questa camicia, a me piace, allora ci scambiamo l'oggetto e quindi solamente in ultima analisi cedere ad un acquisto che alla fine è compulsivo, cioè dettato dal momento. Se tante volte si aspettano due o tre giorni, già quel desiderio acquista un altro sapore, diventa meno forte, no? Io questo l'ho provato su di me perché sono una ragazza, sono stata adolescente anch'io ed è difficile a volte resistere, non essere al passo con l'ultima moda. Però dà la consapevolezza, poi ti viene naturale dire no, ma per quale motivo io devo essere complice, cioè non voglio. Una volta che sai, una volta che conosci, ricordo l'anno scorso ho sentito un'intervista a Greta Thunberg, una felice del vostro movimento, e le venne chiesto la domanda che si fa sempre, qual è la singola cosa più importante che ciascuno di noi nel suo piccolo può fare. E lei mi sorprese molto perché rispose informarsi. Cioè non ha detto chiudete l'acqua quando vi lavate i denti, spegnete la luce, fate la raccolta differenziata, non so, non usate plastica. Ha detto informatevi, andate a conoscere cosa c'è dietro le cose, sia perché può essere già di per sé una cosa interessantissima, bellissima, è un viaggio, ma anche perché vi permette poi di decidere meglio del vostro futuro. Viviamo in un mondo in cui il margine di scelta è un po' ridotto. Tanti processi li subiamo, le cose sono fatte così, sembrano fatte così, la società è fatta così, il sistema commerciale dei negozi è fatto così. Sembra che quindi noi possiamo vivere tranquillamente senza sapere niente di quello che c'è dietro. Invece conoscere, informarsi può essere davvero una bella avventura e ci può far riguadagnare la nostra libertà, la nostra capacità di scelta e quindi anche la nostra felicità. Io vedo che il tempo a nostra disposizione è praticamente esaurito, però penso che abbiamo dato un bel messaggio alla fine, tu che ne pensi? Assolutamente sì, credo che sintetizzando potremmo dire che l'unione fa la forza e che la conoscenza è alla base di qualsiasi viaggio che uno vuole intraprendere. Alla fine siamo fatti un po' di questo e la chiave è sempre guardare oltre il ciglio della propria finestra. Solo così secondo me riusciremo a venirne a capo, ecco, a venire a capo di questa situazione. Tu che ne pensi? Beh, io ho qua una finestra, quindi posso già esercitarmi già da adesso e allora incoraggiamo anche tutti voi a iniziare a guardare oltre il ciglio, a spingere lo sguardo più in là per vivere delle vite libere e felici. Grazie Federica. Grazie Giorgio. E arrivederci a tutti.